Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Deep Vance, gioco appena uscito della DV Giochi che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo onore collaborare con voi. Deep Vance è un gioco da 2 a 4 giocatori, dai 12 anni in su è molto semplice, poi ora vi faccio vedere un po' come funziona, e della durata media che va riportato su scatola dai 30 ai 40 minuti. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. In Deep Vance, appunto come detto edizione italiana di DV Giochi, dobbiamo gestire un ecosistema ambientato nelle profondità oceaniche, dove la fanno da padrone sorgenti idrotermali che ovviamente servono per originare la vita a quelle profondità. Ed è un gioco particolarmente interessante perché come tanti giochi, anche della DV Giochi, sono titoli veloci ma che fanno anche scuola alla fin fine, perché comunque ci insegnano sempre qualcosa ed hanno anche delle, per quanto sia un giochetto facile e veloce come regolamento, anche delle basi scientifiche e fisiche belle solide. E qui saremo chiamati ad andare a creare un vero e proprio ecosistema sottomarino, tutto quanto originato e alimentato e tenuto in vita appunto da queste sorgenti idrotermali. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima di tutto unboxing. Confezione del gioco non molto grande, però comunque c'è abbastanza contenuto all'interno e sicuramente è anche ben rappresentato, mi garba anche lo stile artistico e tutto quanto. E vedete delle profondità oceaniche con appunto delle fonti idrotermali. Gioco di Alex Davis, Ryan Laucat, edizione italiana della DV Giochi e come vi ho detto un gioco da 2 a 4 giocatori, non c'è una modalità cooperativa o una modalità in solitario, qui bisogna essere almeno in due. Apriamo. All'interno troviamo dei cubettini che sono praticamente l'archea e sono fatti ovviamente in piccoli tagli. Questo qui, questo rappresenta un'archea, poi ci sono questi segnalini qui che sono segnalini sempre di archea da mettere in gioco che contano di più e le conchiglie che come vi spiegherò più avanti, queste servono per assorbire o per meglio dimezzare la forza dell'attacco che vi viene fatto da altri giocatori. Poi il regolamento di gioco che è veramente piccolino e di una semplicità unica, tra l'altro molto bellino, mi piace anche pieno di esempi numerati e quant'altro, quindi anche di fasce e le letture. E poi tutti quanti gli esagoni che servono per andare a comporre il vostro ecosistema e ci sono altri token, ad esempio queste sono 5 conchiglie. Qui ci sono le conchiglie singole, qui invece sono rappresentate in gruppi. Poi ci sono anche altri token che vi vanno a chiedere ad esempio di mettere un deficit. Invece di mettere un deficit di 10 ci andate a mettere direttamente uno di questi segnalini qui. Tutti quanti gli esagoni per andare a comporre il vostro ecosistema con tutte le indicazioni sopra. Quanto producono, il costo di attivazione e quello che fanno. Vi faccio vedere un po' come funziona. Vi dico subito che è un gioco velocissimo e facilissimo e infatti è il classico gioco secondo me che si fa anche veloce a spiegare e ancora più veloce a intavolare. Quindi poi ve lo dirò alla fine comunque è il classico gioco per tutti. La tematica è anche abbastanza leggera, non complicatissima quindi ci sta. Inizialmente vengono prese delle tessere che sono tessere esagonali, sono quelle che vanno a comporre poi l'ecosistema che andiamo a costruire e da una mano in comune, una specie di tra molte virgolette shop alla portata di tutti quanti i giocatori vengono disposte tutte quante le carte scoperte di cui il giocatore potrà prendere quando ovviamente è il suo turno quella che vuole e andarla a incastrare con il resto del suo ecosistema. Partendo dalla prima sinistra non si paga niente, la prendi e basta e la usi, te la metti in mano e la usi. Prendendole da sinistra verso destra per ogni punto rispetto alla prima sinistra si va a mettere un'archea. Le archee sono la moneta e il punteggio che si può guadagnare nel gioco e quello che ci consente di fare azioni appunto con questi tile. Quindi quando noi prendiamo questo tile il senso del gioco è che vanno incastonati fra di loro, va composto un ecosistema ovviamente l'esagono deve andare a toccare con un altesagono e deve essere messo a contatto dove c'è più bisogno. Perché il regolamento del gioco vuole che quando andremo ad attivarle nella fase del turno che si divide in due azioni particolari che vi vado a descrivere dovete leggerlo da sinistra a destra dall'alto verso il basso come se fosse un libro. Quindi la prima che mettete in cima è la prima che dovete fare l'azione. Magari sotto ne avete messe due collegate alla prima, la prima in basso di qua deve essere la seconda attivata e poi la terza. Dovete fare una lettura come se fosse un libro. E le azioni che si possono fare appunto di tutti quanti i tile dell'ecosistema che stiamo andando a costruire sono espandere ed attivare e poi leggendo al libro scegliete per ogni casella cosa fare. Se andate ad espandere, espandere vuol dire che voi in quel turno lì cercate di generare risorse. Risorse che vengono prese da una riserva in comune per tutti i giocatori e messe sulle singole caselle. Se una casella, ad esempio una fonte idrotermale, produce due da sola senza avere niente attaccato, produce due archea, voi prendete due archea e ce le mettete sopra. Si passa leggendo al libro al tile sotto. Il tile sotto cos'è? Un'altra sorgente idrotermale oppure delle rocce, dei minerali, cose del genere. Cosa faccio? Espando o attivo? Il funzionamento è lo stesso. Espandi serve per guadagnare archea perché a volte voi potreste aver messo una creatura, ad esempio un pesce, qualcosa del genere, ad esempio fuori lo squalo delle profondità. Magari lo squalo delle profondità produce due, tre archea, poiché lo dipende, tanto c'è sempre con le conchigliette viola disegnato sopra, però magari ti dice produce un archea per ogni roccia e fonte idrotermale, ad esempio, che ci avete nelle vicinanze. Quindi ti guardi dove è messo lo squalo, e qui è tutta la tattica del gioco, guardi con cosa l'hai messo in contatto, magari l'hai messo in contatto con due fonti idrotermali e due rocce, quindi uno, due, tre, quattro, perché lui guadagnava punti, come ho detto, sia dalle rocce che dalle fonti idrotermali. Quindi quando andate a fare la fase che vi ho detto di espansione, prendete dal pull in comune quattro archea e ce le mettete sopra. Si passa la casella dopo, cosa faccio? Espando o attivo? Attivare invece è andare a fare l'azione, che è segnata di solito in alta a sinistra, descritta sulla carta. E di solito sono o attacchi, dei vostri pesci, del vostro ecosistema che state andando a creare, per far perdere, appunto, archea dalla riserva, quella riserva personale, privata, non quella in comune, agli altri giocatori. Quindi magari uno squalo potrà fare un attacco, oppure semplicemente potrà fare qualcos'altro, o potrà guadagnare risorse, ad esempio pesci, lanterne e cose del genere. Quindi il senso è quello di farsi un bel gruzzolo di archea, tenerlo da parte, e ricordatevi che quando fate la fase di espansione li dovete mettere sui vari tile. Quindi se quello produce tre, tre lì, se quello produce due, due lì, e così via. Se li volete poi dopo prendere e mettere nel coso in comune, nella riserva in comune, lo potete fare, però questa cosa di solito si fa quando si vanno ad attivare. Quindi se vuoi attivare qualcosa che costa tre archea, ma sopra in quel momento ce ne due, non lo puoi fare, o magari lo puoi fare prendendone una dalla riserva tua personale. Quindi il funzionamento è semplice, ci sono azioni d'attacco, azioni di un po' di sabotaggio, perché poi alla fin fine è un gioco dove si cerca di andare a minare l'ecosistema di un altro giocatore, ed è un gioco ovviamente a punteggi, quindi vince alla fin fine non solo chi ha più archea a fine partita, ma anche chi ha fatto l'ecosistema migliore, e anche quello un pochino più agguerrito. Ci sono anche le conchiglie, che l'avete visto in fase di unboxing, che si possono guadagnare, anche lì con azioni di vari tile, e quelle possono essere utilizzate quando subite un attacco da parte di un altro giocatore, magari un giocatore ha una creatura che vi attacca, sulla cui carta c'è scritto paghi tre archea, lui paga tre archea, e fai un danno a tutti i giocatori, perché i danni sono a tutti i giocatori, non è che ti bersagli uno, bersagli tutti, fai un danno a tutti gli altri giocatori per ogni fonte idrotermale che hanno. Magari il giocatore non ce n'ha, strano eh, non ce n'ha, non prende danno. Magari uno ce n'ha quattro, quindi subirebbe quattro danni. Usare la conchiglia di mezzo al danno subito per difetto, quindi un quattro diventa due, un tre diventerebbe un uno, perché diviso due praticamente si va per difetto e diventerebbe un uno. Quindi alla fin fine funzionamente è facile, ti viene attaccato, ti hai una conchiglia, la usi, anche perché per ogni danno che subisci, come vi ho detto, dovete andare dalla vostra riserva in comune, almeno che, magari un attacco non dica qualcosa di particolare, ma dalla vostra riserva, non scusate, in comune privata, levare archea. Si può andare anche in deficit, da che è quando si va in deficit, banale dirvi che se siete a meno 10, prima di tornare a zero, ce ne vorrà un pochino. Il funzionamento del gioco, bene o male, è tutto qui. In conclusione, questo Deep Vance, edizione italiana di DV Giochi, è un titolo veramente facile, da intavolare, che poi è bello, perché comunque danno, sono belli quei giochi, che soprattutto danno un insegnamento, ti insegnano qualcosa, che magari non sapevi, tante volte è capitato anche a me, di andare a vedere giochi, su cui magari mi viene in mente un barrage, perché non sapevo nemmeno, fonti idroelettriche, acqua, cioè non sapevo nemmeno come funzionasse, tutta questa roba qui, idroelettrica, perlomeno qualcosa, insomma, mi ha insegnato alla fin fine, quindi sono belli questi giochi qua, e poi sono giochi facili, dal costo contenuto, e veramente, alla portata di tutti. A me personalmente piacciono, tutti quanti i giochi, a metà di sott'acqua, e per questo, l'orchestra DV Giochi, sono fanatico anche di titoli, come lo dico sempre, Deep Madness, se altri titoli del genere U-Boat, a me quando qualcosa è ambientato sott'acqua, da una parte mi inquieta, ma da una parte mi affascina, quindi l'ho chiesto subito, li ringrazio veramente di cuore da morire, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sua impressione, dal nostro negozio sponsor, gioco, libreria, semola, al miglior prezzo sul mercato, e vi ricordo, quando fate un acquisto, cliccate su codice discount, al momento che l'avete messo nel carrello, e usate il codice discount, Coridan 7, per avere subito uno sconto del 7%, se superate la spesa di 79 euro, spese postali incluse, spedizione in 24 ore, in tutta Europa, non in tutta Italia, in tutta Europa, se sul sito non lo trovate in lista, o lo trovate, ma sono finite le copie, e l'ha venduto, scrivete comunque a Corrado, il proprietario, e al supporto, diteli, arrivo dal canale di Coridan, si potrebbe avere questo titolo, lui ve lo troverà al miglior prezzo sul mercato, e usate sempre il codice sconto, Coridan 7, ragazzi, un gioco alla portata di tutti, e un gioco veramente, veramente interessante, e anche molto competitivo, è bellino tra l'altro, lo vede un po' come un puzzle game, perché, non è tanto l'avversario, che ti va a sabotare, sei te che ti vai a sabotare, da solo, se non crei un ecosistema, veramente perfetto, ciao ragazzi, alla prossima, Grazie a tutti,